Grazie a tutti Grazie a tutti Ferrante, Brizzi, Longoli, Stanziale, Esposito, Mariani, Desisti, Merlo, Vitali e Chiarugi Tutto dunque pronto per questa grande sfida tra internazionale di Milano e Fiorentina Attenzione, fischio dell'arbitro, partiti Mazzola, Bedin, chiuso da Mariani Poi c'è un altro take di Merlo Tocca verso Stanzial Da questi a Desisti, Picchio, Desisti Che è in ottima forma in questo periodo Attenzione, Merlo Tiene palla il regista da Desisti Vitali, Vitali autore di una splendida partita Nella gara interna disputata Contro il Vicenza Attenzione, Corso Esce Superchi Chiude lo specchio della porta e para Palla verso Stanzial Lo attacca Bonimba Gli porta via palla ma non riesce a controllarla Quindi palla che termina in fallo laterale Desisti, Desisti Chiuso da Boninsegna Bellugi Bertini Bonimba Bedin Bedin autore del gol della vittoria Foggia Attenzione, Chiarugi ha rubato palla Quindi Vitali Chiuso Vitali dall'intervento di Bellugi Jair Verso Mazzola Ancora Chiarugi Mette a terra per Mariani Attenzione, Mariani Mariani Punta l'area Mariani Attenzione, va sul fondo Mariani Si gira La mette dentro Verso Vitali E poi Bonice Chiude in calcio ad angolo La battuta Picchio Desisti Palla dentro Bertini Vitali Mette fuori di poco C'è stato un primo tocco di Bertini No, non è riuscito a prenderla Quindi Vitali Ha provato il tapini rete Ma la palla è uscita fuori Ancora Vitali Buono il controllo di Vitali Poi si ferma Quindi Burnici Bertini Jair Il brasiliano Tocca verso Mauro Bellugi Difensore di belle speranze Mazzola Attenzione Mazzola Cerca di chiudere Lobrizi Che ha la meglio Quindi libero Spazza lungo Verso Chiarugi Desisti Mariani Sbagliato il passaggio di ritorno Chiude Giubertoni Chi imposta su Mazzola Da questo è buon insegno Ancora Mazzola Mariolino Corso Si accentra Corso Attenzione Corso Valtino E c'è il gol Dell'Inter Con Mariolino Corso Ottima la stagione Della Giocatore Interista Che Dovrebbe essere Il suo sesto gol Stagionale Il capitano Nero azzurro Giocatore Più anziano Nella rosa Della squadra Interista Ha portato In vantaggio L'Inter Pertanto Internazionale 1 Fiorentina 0 Mariolino Corso Ecco Rivediamo La replay Il suo gol Lascia partire Un Best Sinistro Che non dà Speranze A Superchi E vediamo Se la Fiorentina Sarà in grado Di rimontare Fiorentina Che non ha disputato Un brutto incontro Sin qui Però è mancata Negli ultimi metri Istanzial La disturba Corso Istanzial Desisti Merlo Merlo Attenzione Merlo Lungo Verso Vitali Poi Vieri Ottima quest'azione Dei Gigliati Palla verso Corso Che lotta Con Longoni Un di esposito Altro Giovanotto Di belle speranze Questo esposito Corso Attenzione Corso Chiuso Al limite Trova un calcio Di punizione Da lì Intanto c'è la munizione Per Ferrante E da lì Potrebbe scaturire Un calcio Di punizione Pericoloso Dovrebbe essere Lo stesso Corso Vediamolo Bertini Addirittura Bertini Prova a metterla dentro Poi spazza via La difesa viola Quindi Giacinto Facchetti Scende Facchetti Bedin Bedin la mette dentro Lontana la difesa Gigliata Quindi Desisti Prova a ripartire Desisti Desisti Ma è solo È l'unico uomo Nella metà campo Gigliata Dovrebbe a centrarsi Vitali Attenzione Desisti Lo attacca Bellugi Desisti Sbaglia Quindi Bellugi Ne approfitta E fa ripartire L'azione dell'Inter Buon insegno Chiuso da Brizzi Da questi a Mariani Ottimo L'intervento di Bedin Facchetti Giacinto Facchetti Si sgancia Bedin Facchetti accompagna L'azione sulla sinistra Giacini Mazzola Attenzione Mazzola Sulla tre quarti Formato da Esposito Chiarugi Merlo C'è Vitali davanti Viene servito adesso Vitali Attenzione Prova Vitali Ma C'è il calcio d'agra Golò Alla battuta Picchio Desisti Palla dentro Facchetti Interviene di testa Quindi ancora l'Inter Palla che termina Il fallo laterale Mariani Per Vitali Palla dentro Ma Era fuori gioco Proprio Sulla linea Non si può neanche parlare Dunque di golla Nullata Jair Merlo Ruba palla Con un ottimo tecla Verso Chiarugi Ecco Cavallo Pazzo Così viene Sopronominato Dai tifosi Merlo Merlo Fermato Bertini La Fiorentina Ogni qualvolta Varca L'asse centrale Del campo Arriva ai limiti Dell'area Interista Manca Di quella lucidità Che può Che deve essere utile In zona tiro Buon insegna Buon insegna Mazzola Pedin Merlo Chiarugi E' un Inter Questa che Per il momento Non ha un buon insegna In ottima forma E qualora Dovessero arrivare I gol di Bonimba Francamente Sarà dura Attenzione Libera La difesa Eginiata Esposito Sarà dura Poi fermare Quest'Inter Mariani Ma lo stesso discorso Si può dire anche Per il Milan Di Rivera e Sochi Pierino Prati Non è esploso Ancora come Solitamente fa Nell'arco Di un campionato E fortunatamente Il Milan Ha trovato i gol Di un giovanotto Questo Silvano Villa Che è già Sette gol In tredici partite Quindi un Domino di marcia Di tutto rispetto Quello di Silvano Villa Ma torniamo a parlare Dell'Inter Finisce il primo tempo A Milano Internazionale 1 Corintina 0 Gol di Mariolino Corso E iniziamo Con il secondo tempo Fiorentina Subito in avanti Con Mariani Pressato Da Facchetti Tocco Verso Longoni Lo ferma La difesa Nerazzurra Quindi Esposito Mariani Chiuso da Burnici Roccioso difensore Interista Facchetti Da questi a Corso L'autore del gol Si accentra Quindi tocca lateralmente Per Mauro Bellugi Prova la discesa Ma è fermato Da Desisti Attenzione Va via Desisti sulla fascia Desisti Vediamo se ci sarà il cross C'è il cross Verso Merlo Troppo lungo Si arrende L'interno Gigliato Corso Ottimo Dopo quello di Foggia Segna Anche qui A Milano E A questo punto Pensiamo che il discorso Si è chiuso Lo avevamo detto Pocanzi Se si sveglia Bonimba Quest'inter qui Sarà difficile Da fermare Ecco l'azione di Corso Entra in area Lascia partire Su sinistra La parata Di Superchi E poi Bonimba Che arriva E chiude in rete Pertanto A Milano Internazionale 2 Fiorentina 0 Merlo Fiorentina Che non è stata Cinica Sottoporta Così come l'è stata L'internazionale Fiorentina Che Se vuole ambire Al titolo Deve essere Più incisiva In attacco Francamente Desisti Da solo Non può Non può bastare Attenzione Vitali Vitali Fermato Bonisegna Corso Grande la partita Di Mariolino Corso Lo ferma Esposito Ferrante Da questi Allongoni Mariani Desisti Avanza Picchio Desisti Poi si allunga Troppo il pallone Ne approfitta Bertini L'ex Fiorentino Campione d'Italia Con i gigliati Nella stagione 68 69 Appoggiato indietro Quindi ha fatto ripartire L'azione interista Adesso Mariani Riviene su di lui Splendidamente Giacinto Facchetti Senza ombra di dubbio Il terzino sinistro Più forte del mondo Bellugi Bertini Mazzola Jair Avanza il brasiliano Dentro per Boninsegna Grande azione di Bonimba Attenzione Il limite dell'area Boninsegna Prova a sfondare Non ce la fa Può ripartire la Fiorentina Con Mariani Che dà a Vitali Tire palla a Vitali Poi la tocca per Mariani Da queste a Desisti Desisti lungo Poi recupera Ancora Desisti Prova il lancio Per Chiarugi Ma è troppo lungo Può uscire il portiere Vieri Che para Tranquillamente Va al rinvio Adesso Vieri Palla che varca L'asse centrale Nel campo Ecco Chiarugi Vitali Attenzione Vitali Il limite dell'area Ha fermato L'arbitro dice Che non c'è fallo Poi ieri Giubertoni Da questi a Bellugi Jair Boninsegna Mazzola Esposito Mariani Verso Esposito Ancora da questi a Vitali Che non ha un ottimo controllo Quindi fa ripartire L'azione intervista Facchetti Palla che adesso E' solo a tre quarti Dei Gigliati Interrompe ancora L'azione La Fiorentina Vitali Si allarga a sinistra Chiarugi Non è servito Burnic Facchetti Ancora Burnic Giubertoni Bellugi Jair Il brasiliano Da dentro Per Bonimba Poi chiude Su di lui Ferrante Palla Bellugi Stanzial Colpo di tacco Per Desisti Da questi a Merlo Non è entrato Va via sulla fascia Bertini Nessuno davanti Da lui Bertini si accentra Attenzione Entra in area Bertini Lo tallona Brizzi Che gli porta via Palla Spazza in fallo Laterale Jair Di testa Non controlla bene Quindi Desisti A Chiarugi Che deve lottare Con Giubertoni Palla Che In seguita Dai due Quindi Bedin Gianfranco Bedin Lungo Verso Jair Mazzola Esposito Poco meno di un minuto Al termine Desisti Giubertoni In anticipo Su Vitali Quindi ancora Fiorentina Con Esposito Attenzione Esposito Resiste La carica Di Bertini Resiste Una seconda volta Si gira Attenzione Palla Nell'area Interista E Finisce La partita Internazionale Due Fiorentina Zero Corsa e Buonisegna Gli autori Dengol Da Milano E tutto Linea Allo studio Dengol 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 Corsa e Buonisegna Dengol Di E Grazie per la visione! Grazie per la visione!